Devo affrontare un tema piuttosto arduo, ma lo faccio con piacere sapendo che è sempre provvisoria ogni riflessione che riguardi il tema appunto della libertà, di questo concetto, della sua storia, del suo significato, del suo uso. Ecco, come vedete bastano queste poche parole per capire che siamo alle prese con un tema inesauribile, che evidentemente però è tale da catturare molto più che i sentimenti, le passioni. In passato mi è capitato di affrontare un paio di volte, due o tre volte, in modo tangenziale questa tematica, per esempio riflettendo sul tema della libertà della ricerca, in particolare le difficoltà sorte in epoca controriformistica, prima, durante e dopo il concilio di Trento, sulla libertà di interpretare la scrittura, quindi applicare il metodo filologico scientifico che si fonda sui documenti, sui manoscritti, a un testo considerato al di sopra degli altri testi, intangibile. E quindi una lotta per la libertà della conoscenza e la filologia, il metodo filologico, è certamente stato un veicolo di grande libertà. La libertà di lettura, il grande problema della censura sui libri, molto precedente all'età alla quale prima mi riferivo. basti pensare che nella tradizione di età romana imperiale, molte fonti d'epoca o di poco successive parlano di un controllo sui libri e di distruzione di libri. Augusto è stato un personaggio centrale per tante ragioni, si è anche illustrato, diciamo così, su questo terreno. E anzi c'è chi dice, non ha torto, che aver fondato una biblioteca importante, la biblioteca sul Palatino, biblioteca greca, biblioteca latina, fosse per un verso un incremento, un aiuto alla lettura, ma per l'altro uno strumento di controllo sulla lettura, cosa far leggere, cosa non. E si potrebbero portare esempi anche precedenti da altri mondi, il mondo cinese, le cronache cinesi al passaggio fra il terzo e secondo secolo avanti Cristo parlano di una grande distruzione di libri, di storia voluta da un imperatore della Cina al quale fu suggerito di distruggere i libri di storia con l'argomento che sono pericolosi. Cioè la conoscenza della storia, diceva il consigliere di questo imperatore, mette in pericolo il governo. È un'espressione un po' ingenua, però rende il concetto. Quindi libro è libertà. Per non parlare poi di un altro uso di questo termine, che noi conosciamo più da vicino perché è stato presente nelle cronache, potremmo dire, e cioè esportare la libertà. che è un tema al quale noi ogni tanto veniamo bruscamente richiamati dalla cronaca, dalla storia vivente. Un antecedente remoto potrebbe essere, anche se non è notissimo, il modo in cui l'aprile del 1792, quindi prima che il re di Francia venisse arrestato, avvenne l'arresto il 10 agosto dello stesso anno, la Francia dichiara guerra all'Austria e alla Prussia coalizzate, perché come al solito quando scoppia una guerra è sempre complicato capirne le origini, ma perché minacciosamente un esponente importante, il principe di Brunswick, minacciava di andare a liberare Luigi XVI oppresso dallo sviluppo della rivoluzione. Era stato già pescato durante la fuga di Varenne, riportato a Parigi, quindi una condizione un po' difficile per un sovrano che era stato un sovrano assoluto e poi aveva dovuto diventare sovrano costituzionale. Brunswick minacciava e la Francia, allora dominata dalla fazione Girondina, Brissot e altri, ma Brissot è il personaggio più importante, dichiara guerra, previene in certo senso l'attacco che Brunswick minacciava e le truppe francesi varcano il confine e incomincia la guerra contro la prima coalizione. Allora contro tale iniziativa, il cui motto era portare la libertà nei paesi oppressi dall'assolutismo, chi si opponeva a questo era un personaggio che poi ha avuto una tradizione storiografica piuttosto ostile, e cioè Robespierre, il quale pronunciò nell'aprile del 92 un celebre discorso «I popoli non amano i missionari armati», cioè quelli che ti vengono in casa dicendo «io ti porto la libertà». Ma la storia era molto precedente, visto che questo tema esportare la libertà è piuttosto diffuso e ritornante, mi piace a questo punto fare un salto all'indietro molto spericolato e cioè ricordare che la parola d'ordine con cui ebbe inizio la guerra del Peloponneso, cosiddetta, non dai contemporanei ma dagli storici, la parola d'ordine con cui la grande potenza militare terrestre Sparta dà inizio alle ostilità e invade l'Attica e portare la libertà ai greci. Anzi addirittura c'è un ultimatum potremmo dire che viene recapitato alla dirigenza ateniese, a Pericle che la rappresenta a livello più alto, un ultimatum consistente nell'ordine di lasciare autonomus tusellenas, quindi concedere, restituire la libertà identificata con l'autonomia statuale a questo punto ai greci. Un uso strumentale del concetto, un uso strumentale se pensiamo che in realtà la causa vera, come la chiama uno storico d'epoca che era anche un protagonista e cioè Tucidi di Ateniese, era la convinzione ormai ingeneratasi nella dirigenza spartana che la crescita della potenza ateniese fosse ormai intollerabile, era andata troppo avanti, arrivava dentro il Peloponneso con il blocco della città di Megara, quindi non si può tollerare oltre, quindi la guerra. Però ci vuole una motivazione nobile e quindi l'ultimatum è libertà per i greci, portare la libertà. Anzi l'ultimo atto di quella guerra lunghissima, durata tra varie alterne vicende, oltre 27 anni. La scena finale la leggiamo nel secondo libro dell'Elleniche di Senofonte, è molto sintomatica, cioè Atene si arrende dopo un assedio tremendo, la gente muore di fame, non è possibile resistere, non c'è più la flotta, si accetta la pace senza condizioni, la resa è incondizionata e vengono distrutte le mura che proteggevano Atene. L'umiliazione massima è che sono gli Atenesi stessi costretti a demolire le mura che erano l'elemento di forza della loro potenza militare e il racconto che leggiamo, nello storico che parla di queste cose, che ha anche egli un contemporaneo e forse addirittura un testimone oculare, un po' più giovane di Tucidide, si chiamava Senofonte, poligrafo del quale abbiamo tantissimo, in quel giorno ritenevano che incominciasse la libertà per i greci, perché si demolivano le mura che costituivano il punto di forza dell'impero ateniese. Quindi la parola propagandistica ritorna al termine della vicenda, poi la vicenda ha sviluppi dei quali qui non mette conto parlare, però raccontando questo uso del termine palesemente strumentale è giusto addentrarci in una realtà che conosciamo ancora meglio, se vogliamo, quella del mondo romano tardo-repubblicano. Perché dico questo? Perché le parole della politica sono quasi tutte di età classica, democrazia, tirannide, libertà, monarchia, sono tutte parole o greche o latine, anzi sono quasi tutte greche tranne libertà, libertas. Peraltro in latino non esiste la parola democrazia, ma esiste in greco e quando i pensatori politici romani o i politologi, non so come chiamarli, o i politici di professione volevano parlare del mondo ateniese in particolare, non riuscivano ad esprimere, perché in latino la parola non esiste, e dicevano eccesso di libertà, nimia libertas, anche in Cicerone si trova questa espressione nel De Repubblica e Cicerone è uno dei massimi pensatori politici a noi giunti del mondo tardo-repubblicano. Queste parole hanno una storia. In greco c'è il corrispettivo di libertas, se vogliamo, ed è eleuteria, che ha avuto meno fortuna negli esiti moderni, noi abbiamo recepito libertà da libertas latino. Però le due cose, sebbene apparentemente siano collimanti, non lo sono propriamente, non lo sono del tutto. C'è un bel libro di tantissimi anni fa, che meriterebbe forse di essere anche riproposto, di un giovane, allora giovane, ma studioso di origini polacche, ma israeliano, di cittadinanza, si chiamava Wirsubski, intitolato Libertas. È un bellissimo libro in cui studia questa parola nel mondo tarda-repubblica-principato. E lui dice una cosa che viene in taglio molto opportunamente nel quadro di quello che ora stiamo raccontando, e cioè eleuteria e libertas. Eleuteria esprime nella prassi concreta, che noi conosciamo per il tardo quinto secolo avanti Cristo, per il quarto almeno in parte, è un massimo di diritti. Libertas è un minimo di diritti. Cioè le due parole sono apparentemente identiche, però calate in due realtà molto diverse, che funzionano in modo diverso. Facciamo un esempio concreto. L'Assemblea Popolare ad Atene, piccola realtà, sia ben chiaro, la Repubblica Romana è una realtà molto più grande e dopo la guerra sociale tutta l'Italia è Roma, quindi è apparentemente una città-stato, in realtà è uno stato dal punto di vista territoriale. Funziona in modo curioso, però è tutt'altra cosa rispetto alla piccola realtà adeniese, 30.000 cittadini di pieno diritto, quindi una realtà microscopica, importante per noi ancora dopo millenni, però è una realtà minuscola. L'Assemblea Popolare, l'iniziativa non è soltanto di chi presiede o dei magistrati, anche il comune cittadino ha l'iniziativa, può avere l'iniziativa di proporre. Cosa fondamentale, nella Conzio Romana, nell'Assemblea Popolare presieduta da un magistrato o nel caso dei comizi tributi da un tribuno della plebe, il cittadino non ha l'iniziativa, può reagire alle proposte che gli si fanno, dire sì o dire no, che è cosa molto diversa, perciò un minimo e un massimo. Ma c'è di più, la parola greca eleuteria nasce in ambienti aristocratici, è un elemento connotante le aristocrazie, le quali si contrappongono ad un potere personale che noi chiamiamo tirannide, perché da un certo punto in avanti questo termine è entrato nell'uso, ma all'epoca è usato parallelamente ad un altro termine che non ha avuto nessuna fortuna nelle lingue seguenti, Aisiumnetes, che vuol dire mediatore. All'origine il tiranno è uno che media tra le parti in lotta inconciliabile, clan aristocratici che si fanno la guerra e che hanno un seguito subalterno. Gli aristocratici, penso all'isola di Lesbo, noi conosciamo grazie al poeta Alceo che era un fanatico politico violento, il famoso Nunquest Bibendum Moraziano è una traduzione latina di una esplosione di gioia di Alceo perché è stato ammazzato il tiranno da lui detestato, da lui, dai suoi amici, familiari, del suo clan. Quindi gli aristocratici rivendicano l'eleuteria contro un potere personale che non di rado ha una sua base popolare. Nel caso di Atene per esempio Pisistrato, il fondatore di quell'esperimento di tirannide, cioè di potere personale, durato in varie parentesi una sessantina d'anni, quasi quanto è durato l'impero atenese, che è durato 70 anni, Pisistrato ha come suoi sostenitori quelli che potremmo chiamare il demo, il popolo. Gli aristocratici scendono a patti con lui, Clisten è fondatore, si dice, della democrazia atenese, a un certo punto ha ricoperto l'arcontato durante la tirannide di Pisistrato, quindi la famiglia degli Alcmeonidi, una famiglia importantissima ad Atene, era scesa a patti col tiranno, conviveva e collaborava. Però eleuteria è la parola con cui loro rivendicano la contrapposizione al potere incontrollato del tiranno. Sulla natura di potere incontrollato potremmo fare tante chiose, ma ci porterebbero un po' troppo lontano. Invece democratia è una parola che nasce in modo strano, in opposizione ad eleuteria, ed è una parola che è usata, almeno in base ai testi che noi abbiamo, all'inizio, nella sua composizione piena, che è rimasta tale quale in tutte le lingue, come un termine negativo. Il kratos, che vuol dire forza, ma vuol dire anche violenza, del demo, che non piace agli aristocratici e, per esempio, l'opuscolo famoso sul sistema politico atenese, che è tramandato tra le opere di Sinofonte, ma non è probabilmente opera sua, ma è molto precedente. Il termine ricorre continuamente, ma viene usato per indicare il peggio possibile. Cioè è un male dovunque, sulla terra, la democratia, dice questo autore, che invece rivendica che i ricchi, i buoni, gli aristoi governino e se loro governeranno, cioè si avrà la eleuteria, la libertà, il popolo, orribile, ridiventerà schiavo. Questo è un po', diciamo, l'orizzonte mentale in cui si colloca la parola eleuteria nel lessico combattivo del conflitto politico nella Grecia arcaica. E rieteggia questo elemento in un testo famosissimo, che ogni tanto viene citato, giustamente anche perché è molto noto, ha un valore simbolico, ma è spesso frainteso, e cioè quel grande discorso, diciamo, educativo che Pericle pronuncia, ma noi abbiamo la parafrasi fatta da Tucidide nell'opera sua storica, chiamato Epitafio, cioè commemorazione dei morti in guerra, del primo anno della guerra del Peloponneso, poi Pericle muore di peste e quindi esce di scena. E come sempre, almeno quello che riusciamo a capire dai testi superstiti, in quel tipo di oratoria, il cosiddetto Epitafio, che potremmo chiamare una seduta collettiva di educazione civica, fatta tutti gli anni, a beneficio dell'intera città, in una cerimonia particolarmente solenne, quella per commemorare i morti in guerra di quell'anno e ci sono sempre tali e tanti conflitti che l'occasione è annuale inevitabilmente. Come sempre in quel tipo di discorsi l'esordio è una descrizione positiva naturalmente del modello politico vigente nella città, perciò è una seduta, potremmo dire, di educazione civica collettiva. Ed è curioso, si è tanto discusso, è vero che Pericle parlò in quel modo, non abbiamo modo di verificarlo naturalmente. Molti pensano che quei discorsi siano totalmente inventati, io credo che in parte questo non sia, anzi Tucci dice di essersi sforzato di riprodurre quello che era stato detto, comunque quello è un caso a parte. E lì l'oratore, che è l'oratore ufficiale che esalta la città e quindi dovrebbe parlarne nel modo più positivo possibile, arrivato a descrivere il modello politico vigente, dice noi abbiamo un sistema diverso da quello di tutte le altre città, il che è già un po' strano perché tante altre città legate ad Atene avevano lo stesso modello politico in realtà, ma si riferisce al mondo spartano che è fisicamente vicino ma molto diverso. È diverso dalle altre città, il termine con cui lo si definisce il nostro sistema politico. È democratia, però da noi vige la libertà. È l'euteros liberamente, avverbio, de politeuomen. Che è molto, è spesso sfuggito questo passaggio, ma è molto significativo. ovviamente noi non sappiamo se Perigle abbia detto veramente questo, perché al tempo suo, 430-29 a.C., ormai l'autocoscienza politica del demo ateniese è che la democrazia è un valore positivo. Quindi è un po' strano che Perigle dica la parola è quella lì, però noi salvaguardiamo la libertà. È probabile che questo non sia stato detto in quei termini, però è interessante che sia aggiunto a noi in quella forma, perché sta a significare che nella testa di un pensatore, quale è certamente Tucidide, politico, che si arrovella sui modelli, qual è il miglior modello di politica, di sistema politico, e lui a un certo punto si invaghisce anche della oligarchia moderata, ecco, nella sua testa quei due termini sono in contrasto. Quindi riecheggia l'idea che eleuteria è un valore totalmente diverso, più elevato rispetto alla pur sempre pericolosa democrazia, cioè forza, violenza, predominio del demo. Aristotele e del resto, molto dopo naturalmente, in un passo della politica, dice che la democrazia non è il governo della maggioranza, è il governo dei poveri, cioè dei non possidenti, quello è la riunione, quale che sia il loro numero. Ed è questo l'elemento che spiace al mondo aristocratico, per cui il termine e il contenuto di quel termine è guardato con sospetto, con fastidio. Ci sono però alcuni punti di contatto tra il mondo romano, del quale abbiamo detto libertas è un minimo, e il mondo atenese dove la pratica politica assembleare concede un massimo di diritti. Ed è nelle competenze, questo va sottolineato, dice ancora Aristotele parlando del funzionamento delle assemblee popolari nelle città in cui c'è l'assemblea popolare naturalmente, al primo punto si riuniscono periodicamente, al primo punto all'ordine del giorno ogni volta c'è pace o guerra, quindi l'assemblea popolare è chiamata a decidere sul tema se entrare in una guerra o no, se farla o no. Il secondo punto è la questione sociale, e cioè ci sono garanzie sufficienti per i non possidenti, quindi addirittura il punto uno è pace o guerra, il secondo è la questione economica, chiamiamola così. In realtà anche nei comizia romani, o meglio potere a pannaggio dei comizia romani è esprimersi sulla scelta pace o guerra, anche se poi la decisione viene presa dal potere politico, dai consoli che chiedono un parere al Senato, il Senato è sempre più potente e quindi il rapporto è sperequato, i consoli in certo senso eseguono quello che il Senato decide, sebbene in origine il Senato sia un organo consultivo e i consoli siano la proiezione in un contesto di libertà, di libertas, del potere monarchico. Come spiega Livio quando parla della nascita della Repubblica Romana, dice che la differenza, sostanzialmente dice questo, tra il sovrano e i consoli è che i consoli sono due e durano un anno solo, mentre il sovrano è uno solo e dura finché campa. Però il contenuto di potere è lo stesso, sia pure diviso tra due persone che si controllano a vicenda e capite benissimo che a quel punto il Senato è davvero un organo consultivo, anche se una tradizione per noi incontrollabile che conosciamo grazie a un antiquario bravissimo, storico, antiquario greco di cose romane che si chiamava Dionigi di Alicarnasso, ci racconta che Romolo in realtà fu ammazzato dai senatori in Senato e allora erano cento, i Patres. La cosa poi si trasformò nel fatto che Romolo era stato chiamato in cielo, che è un modo anche interessante, diciamo, di risolvere un problema di assassino politico. Ci si chiede se non ci sia sotto un'allusione all'assassinio di Cesare in pieno Senato, naturalmente, in questa tradizione tardiva, non sappiamo come è morto Romolo, pazienza. Però quell'aneddoto sta a significare che già all'origine i Patres sono un organo consultivo, ma contano sempre tantissimo. E nella Tarda Repubblica contano ancora di più, naturalmente, come sappiamo, da tantissime fonti. Proprio all'interno di un conflitto politico in cui il linguaggio ha un ruolo fondamentale, Libertas campeggia. Potremmo fare, ma non lo faremo, una rassegna della frasiologia innumerevole, bastissima intorno alla parola Libertas. Ma ci sono dei buoni dizionari ai quali mi piace rinviare, che forniscono questa frasiologia, che è interessante, come vedremo, spero subito, per l'ambiguità che grava su quel termine. Per cui un grande storico inglese, diventato poi Baronetto, Sir Ronald Syme, ma quando scriveva La Rivoluzione Romana nel 1938 non era ancora Baronetto, aveva 30 anni ed era un neozelandese trapiantato in Inghilterra. Ma quel libro è un capolavoro, Roman Revolution. Come gli dice, Libertas è un veicolo di frode politica, nel senso che viene adoperato dalle fazioni in lotta come parola d'ordine, demonizzante l'avversario e glorificante la propria parte. Per cui in libertatem vindicare, per esempio, è una formula che ritorna, ma ritorna dove, in che tipo di prosa. Mi piace mettere insieme due o tre esempi che illustrano la forza faziosa e l'efficacia di questa parola incastonata in quelle formule, in libertatem vindicare. libertatem vindicare vuol dire appunto riportare a una condizione di libertas chi ne è stato privato. Noi abbiamo una certa oratoria popularis del mondo romano, purtroppo non in forma diretta, abbiamo dentro la storiografia. Il solito problema dell'autenticità o meno di quello che leggiamo nelle opere storiche quando l'autore dà la parola a un personaggio. Ma per dire nel bellum catiline o catilinaria, come si chiama di solito, di Sallustio, che è un'opera sapiente dal punto di vista della struttura narrativa, questo termine ricorre due volte in quella formula naturalmente. Nel primo discorso che Cattilina pronuncia nel ventesimo capitolo della monografia, nella sua casa dove ha radunato i suoi seguaci, i suoi fedelissimi, secondo Sallustio sta già preparando la congiura, questo non è credibile però insomma lui la presenta così ed è un discorso agitatorio. Cattilina è un nobile, nobilissimo della Gens Sergia, quindi altro che Cicerone al quale Cattilina disse inquilino surbis Rome, sei uno che è arrivato a Roma da fuori. Lui discendeva dalla Gens Sergia, personaggio discorso, torbido quanto si voglia, sillano, assassino, forse indebitato fino ai capelli, però insomma la leggenda nera che lo riguarda è impenetrabile, quindi il vero Cattilina forse ci sfugge. Le poche parole sue autentiche si trovano dentro la monografia salustiana in una lettera che lui manda ad un amico che era politicamente un avversario peraltro, Quinto Lutazio Catulo, nel momento in cui lui sta andando via da Roma dopo che è fallito l'attentato contro Cicerone. Ed è una breve lettera molto incisiva in cui lui dice calunnie su di me a non finire ma io ho sempre scelto di stare con le partes miserorum, cioè dei poveri, della povera gente. Per cui un grande latinista italiano, Concetto Marchesi, si inventò la formula della faczio miserorum, che però in quelle fonti non c'è partes miserorum. Nel primo discorso a gente che come lui ha problemi economici gravissimi, lui incita con forza a sé in libertà teme vindicare, cioè affrancarsi dai debiti, cercare di vincere le elezioni con metodi legali o prendere il potere con metodi illegali e se in libertà teme vindicare, cioè riconquistare la libertà. E quando poi è ormai un fuorilegge perché è stato proclamato a hostis dal Senato, per ragioni che adesso è inutile raccontare, fra l'altro siamo nell'anno successivo, Cicerone non è più console, ci sono delle truppe agli ordini di Catilina in Etruria, vicino Pistoia, che vengono affrontate da ben quattro regioni romane, battaglia durissima, i catilinari muoiono tutti combattendo, nessuno fugge. Prima della battaglia Catilina parla da capo, e qui siamo alla fine quasi di quello puscolo, capitolo diciottesimo, in cui Catilina si rivolge a questi uomini che sanno che moriranno perché la sperequazione delle forze è tale per cui non potranno farcela, e dice voi siete qui per pro libertate certare, la libertas di loro. Specularmente Cicerone quando attacca quest'uomo in Senato o fuori del Senato, in tribunale in certe occasioni, rivendica di avere salvato la libertas di Roma contro i catilinari, perciò Saim dice è una parola politica, non è una parola di verità, come viene adoperata. E ancora lo stesso Sallustrio che è stato lui stesso tribuno della plebe, quindi conosce benissimo quel linguaggio e siccome è un pentito, i pentiti sono sempre un po' pericolosi, fa la parodia di quell'oratoria, di quel tipo di oratoria, nell'altra monografia, nella Giugurtina, fa parlare un tribuno della plebe ferocemente ostile ai nobiles che si sono compromessi con Giugurta che li ha comprati, Giugurta dice a Roma si può comprare tutto, compreso il Senato. E questo tribuno della plebe, si chiama Memmio, conclude il suo discorso dicendo seguitemi nella difesa della libertas contro i nobiles che spadroneggiano nella Repubblica. E lo stesso Sallustrio fa parlare un uomo lepido, console nell'anno 78, alla morte di Silla praticamente, console subito dopo, insorge dopo aver tentato di abrogare l'ordinamento sillano che aveva depresso i poteri dei tribuni della plebe, creato un cursus honorum rigido, insomma una riforma molto filo oligarchica, lepido, il padre del triunviro lepido, del lepido che con Ottaviano e Antonio ha il potere a lungo a Roma, il padre è il console dell'anno 70, il console sovversivo come lo ha definito un grande nostro collega storico del diritto romano Gino Labruna in un bellissimo libro, il console sovversivo, che è un ossimoro, ossimoro di dir si voglia, console sovversivo, il quale incita e sa benissimo che ha contro di sé le legioni, l'altro console e quindi anche lui destinato a soccombere ad recuperandam libertatem. Quindi è proprio la parola come catchword dice Saim, o Schlagwort come dicono i tedeschi, che cela un programma politico. L'oratoria tribunizia, ripeto, la conosciamo in queste forme grazie sostanzialmente a Sallustio che ne ha un'esperienza diretta, ma c'è un'altra memorabile prosa latina alla quale mi piace richiamarmi ancora per qualche secondo. In un libro fondamentale anche per la storia della lingua latina, cioè il De Bello Civili di Cesare, forse una delle prose più perfette di latino che ci siano giunte, i primi capitoli, il primo commentario De Bello Civili, Cesare capisce che la partita col Senato va a finire ad uno scontro armato perché le sue richieste di essere candidato in absenzia al consolato per l'anno 49 saranno respinte. I tribuni della plebe, amici suoi, ma i tribuni sono dieci e il Senato riesce sempre a comprarsene un po', per cui all'interno del collegio di tribuni c'è sempre un conflitto. Quelli fedeli a Cesare hanno tentato di porre la intercessio, cioè il veto, sul Senato consulto ultimo che il Senato ha deciso il 7 gennaio del 49 con cui proclama lo stato d'emergenza e di fatto mette Cesare fuori legge. I tribuni cercano di imporre col veto il blocco di questa decisione, vengono brutalizzati, scappano, raggiungono Cesare a Rimini, poco prima del confine tra l'Italia e la provincia della Gallia Cisalpina e Cesare parla ai soldati. Ma è lui stesso che parafrasa se stesso nel capitolo mirabile De Bello Civili, il settimo della divisione in capitoli moderna naturalmente, che io non vi infliggo per intero, ma è paradossale. Siccome Cesare ha conosciuto alla perfezione il linguaggio politico romano, è vissuto di politica da quando era giovanissimo e scappava dinanzi alla minaccia che Silla lo volesse far fuori per la sua parentela con Mario. Insomma, una vita completamente politica. Uno ci si chiede come ha fatto ad essere anche un grandissimo prosatore, vissuto poco, vissuto 56 anni come Dante Alighieri peraltro, ma questi uomini hanno fatto tantissimo in breve. Questa prosa è entusiasmante perché Cesare fa la parodia del discorso che farebbe un capo popolare per eccitare all'indignazione i suoi legionari, per cui parla ai legionari scaldandoli perché poi invaderanno l'Italia, entreranno varcando il rubicone nell'Italia, cioè in Roma, per la ragione che abbiamo detto prima. E quindi dice delle cose paradossali. Dice è stata cancellata l'intercessio, il diritto di veto dei tribuni, con le armi mentre era stata conquistata o meglio riconquistata con le armi contro Silla. Cosa non vera perché il consolato dell'anno 70 in cui viene abrogata, diciamo, la Costituzione sillana non è un atto bellico. E poi ancora sostiene che il senato consulto ultimo, cioè la proclamazione dello Stato d'assedio, è avvenuto in circostanze rarissime. Cosa non vera perché nell'ultimo secolo della Repubblica è molto frequente, anche contro Catilina, contro Saturnino, contro Druso, contro i Gracchi non ne parliamo. E poi dice voi che avete domato la Gallia e tutta la Germania e avete vinto con me tutte le battaglie, ora dovete battervi per la mia dignitas e per la vostra libertà. Non hanno domato affatto la Germania, come sappiamo, anzi l'incursione in Germania è stata problematica. Quindi siccome Cesare sa benissimo quello che ha fatto, è un esempio stupendo di prosa non vera, la parola politica proprio agli antipodi, come sosteneva Platone, della parola scientifica, per ottenere un risultato emotivo forte dalle conseguenze concrete, drammatiche, dove la guerra civile. Libertas dunque. C'è però, e questo completa il quadro diciamo dell'utilizzo di questa parola, a Roma c'era, non c'è adesso, l'atrium libertatis. Atrium libertatis, da alcune notizie svetoniane noi sappiamo dov'era. nei pressi del foro e era stato restaurato da un signore che politicamente ha tentato di avere un grande ruolo, poi non l'ha avuto, è stato fuscato da Ottaviano, e cioè Asinio Pollione, un personaggio interessante al quale Virgilio ha dedicato la quarta ecroga, quella del Puer, che alcuni poi hanno cristianizzato nella tradizione successiva. Asinio Pollione, un personaggio rilevante, ha avuto una vittoria militare nei Balcani, con il bottino ha rimesso in piedi atrium libertatis, e ha messo lì dentro una biblioteca pubblica, gesto che ha irritato Augusto, il quale voleva essere lui ad attuare il disegno cesariano di dare finalmente a Roma una biblioteca pubblica, non realizzato perché viene ucciso a lei di di marzo, Cesare. Comunque questa biblioteca c'è, esiste, ha avuto una sua vita nell'atrium libertatis. Nel terzo libro dei Tristia di Ovidio, Ovidio, povero disgraziato, non capiva nulla di politica, quindi si è rovinato con le sue mani, e per aver scritto o visto, non si è mai capito cosa ha fatto veramente, qualcosa che non doveva, esiliato nel momento in cui Augusto manda in esilio anche la figlia Giulia, crisi fortissima. Sul Mar Nero, a Tomi, non c'era ancora la guerra in corso, ma comunque non era un bel posto Tomi, lui è deluso al massimo, addolorato, tenta, quando muore Augusto nel 14 cerca di farsi richiamare da Tiberio, niente. Tristia, le cose tristi, il termine vuol dire quello. La prima elegia di questo libro è, come dire, detta, recitata dal libro stesso, cioè il libro che parla, e si autodefinisce libro di esiliato, perché chi lo sta scrivendo, cioè Ovidio, è in esilio. Contiene naturalmente il tentativo di farsi richiamare a Roma, tentativo fallito, eccetera. Poi si congeda e dice, il libro che parla, che le biblioteche di Roma non lo accoglieranno certamente, ormai siamo nell'otto circa dopo Cristo, quindi Augusto al potere da un pezzo, la biblioteca di Augusto sul Palatino, quindi le biblioteche non mi accoglieranno, dice il libro dell'esiliato, ma mi ha cacciato anche la libertas che non mi ha fatto entrare nel suo atrium, cioè la biblioteca di Asinio Pollione, che è altra cosa rispetto a quella di Augusto. Allora la scena che Ovidio descrive, che riguarda per l'appunto questo luogo singolarissimo, Atrium Libertatis, dentro cui c'è la biblioteca, la prima biblioteca pubblica di Roma, la scena è che la statua della libertas che sta nell'atrium e che quindi accoglie o respinge chi entra nell'atrium ha respinto il libro dell'esule. E allora lui si consola dicendo ma andrò per manus plebeias. Curiosa indicazione, interessante senza dubbio perché fra l'altro allude al fatto che c'è una lettura diffusa, cioè che la gente anche di modesta condizione legge, perciò lui si consola dicendo il mio libro, questo libro, il libro parla in prima persona, non entrerà nei luoghi della conservazione durevole, però girerà per le mani plebee. Atrium Libertatis però ritorna, questo lo segnalò Momsen in un bellissimo articoletto di due pagine alla fine dell'Ottocento, nelle lettere di Cassiodoro, Cassiodoro ministro consigliere, poi vittima di Teodorico, siamo all'inizio del VI secolo, 507, 8, 10, e lui chiama regolarmente il Senato che continua ad esistere anche sotto Teodorico, quelli che pensano che l'impero romano è finito nel 476, sbagliano perché Teodorico si sente un imperatore romano, già il Senato ovviamente tante cose cambiano ma erano cambiate già prima rispetto alle origini. In queste, nelle varie, più volte, Cassiodoro chiama il Senato, la Curia, il luogo dove il Senato si raduna Atrium Libertatis e si pensava in realtà che fosse una metafora che lui talvolta anche abbastanza strumentale quando dice che il compito di coloro che abitano nell'Atrium Libertatis, cioè dei senatori, è quello di obbedire al rector, cioè all'imperatore, che insomma con il concetto di libertas fa un po' distridore, ma invece una epigrafe trovata nella chiesa di Sant'Adriano a Roma reca la parola Atrium Libertatis ed è certamente il luogo dove si riuniva il Senato al tempo di Teodorico. Quindi la definizione che dà Cassiodoro non è una metafora letteraria, è una ripresa da una indicazione precisa, documentata in modo epigrafico, ovviamente in un luogo diverso da quello vicino al foro dove c'era la biblioteca di Asinio Pollione, quindi lunga durata diciamo del termine Atrium Libertatis, che nel caso di Asinio era una biblioteca molto significativa e polemica in certo senso. Nel caso del Senato Teodoriciano è un'autodefinizione ottimistica di un Senato che conta poco, ma che comunque si rivendica come luogo decisionale e di difesa della libertas. Della libertas di chi? Qui arriviamo al punto in un certo senso conclusivo. uno dei paradossi degli stoici che Cicerone prende in giro nel suo libro Paradoxa Stoicorum è l'unico, l'uomo libero è il saggio, tutti gli altri non sono liberi. Quindi un'idea iper aristocratica di libertas che nel concreto vuol dire la libertà del ceto senatorio, del ceto equestre, cioè la libertà di chi sta in alto, donde poi l'uso polemico tribunizio vindicare in libertatem. Allora questo ci porta, questa constatazione, a fare un'incursione diciamo così cronologica piuttosto spinta nei secoli. Si esalta come atto di nascita della moderna libertas la magna carta libertatum 1215. Ma perché libertatum delle libertà? Come dice Mazzini in una lettera alla madre del 1841 in cui parla della magna carta libertatum, è la libertà dei baroni inglesi contro il sovrano, come l'eleuteria del tempo di Alceo contro il Thuranos. Quindi è la libertà degli aristocratici. È un concetto non univoco, è un concetto legato alle istanze di chi lo pronuncia, di chi se ne fa portatore, di chi lo assume come sua bandiera. Questo è il punto critico del termine e dell'uso storico di esso. Poco dopo, potremmo dire, il 1215, noi abbiamo, diciamo, mezzo secolo dopo, 70 anni dopo, il testo fondamentale per eccellenza, cioè la commedia dantesca, che potrebbe essere intesa come avente filo conduttore il tema della libertà. perché per entrare nel purgatorio Catone si fa avanti perché ritiene che si stiano violando delle regole se un uomo vivo entra nel regno dei morti e Virgilio dice a Catone che in alto si vuole che ci sia questo viaggio perché lui va cercando libertà. Verso molto famoso, spesso citato male, non lo dice Dante di se stesso, lo dice Virgilio parlando di lui al cospetto di Catone dopo aver ordinato a Dante di inginocchiarsi dinanzi a Catone, che viene raffigurato come un vecchio, che in realtà non era perché è morto giovane, si è suicidato alla battaglia di Tapso nel 46, aveva 40 anni, scarsi. La spiegazione è quasi al termine del purgatorio nel canto 26, che è un punto drammatico e molto emotivo della commedia, dove Virgilio si congeda da Dante alle soglie del paradiso terrestre perché lui non può entrare lì dentro. e gli dice che al termine di questo cammino, che ormai si è concluso, l'altra parte sarà affidata ad altra guida, lui lo ha reso libero, dritto, cioè retto nei comportamenti e libero, e dice io te sovra te, corono e mitrio, che è un'espressione fortissima. Corono da incoronare, mitriare, indica il potere papale, il potere civile è la corona, il potere papale. Ma perché io te sovra te? Perché la libertas alla quale Dante è ormai approdato, e Beatrice dirà che lo ha tratto a libertà, è il dominio di sé medesimo, cioè la consapevolezza della necessità, che è l'esatto contrario dell'idea libertas indiscriminata, tanto da diventare la parola d'ordine di una faczio contro un'altra. Ed è un concetto difficile da accettare, alto certamente sul piano etico, ma difficile da accettare. E su di esso si arrovella il pensiero successivo, del quale noi ovviamente non daremo conto, meno ma mente, perché sarebbe da parte mia spietato e non ho certamente la competenza per farlo. Però l'approdo provvisorio di questo problema intricato di che cosa propriamente sia, quale sia il contenuto di questa parola, viene fuori in un momento decisivo, significativo, stroncato subito ma ricco di futuro. Mi riferisco a un testo forse non molto noto, ma fecondo, e cioè il preambolo della Costituzione della Prima Repubblica Francese. La cosiddetta Costituzione dell'anno primo, 1793, nel cui preambolo si legge che la libertà è la facoltà di ciascuno di disporre di tutte le proprie capacità e facoltà, essa ha la sua regola nella giustizia. Giustizia è una parola importante naturalmente, ma regola ancora di più. Anni dopo, Ugo Foscolo, in una lettera agli editori della Divina Commedia, parafrasa questo testo, a lui noto certamente, e lo amplifica. Vi leggo la sua... La libertà a me pare cosa più divina che umana e l'ho veduta sì necessaria e sempre corruttibile fra i mortali che io non la darei da amministrare fuorché alla giustizia. No? L'ha vista tante volte corruttibile tra i mortali, cioè utilizzata, usurpata, tanto da proporre, io la darei, da amministrare alla giustizia, la quale la governasse con leggi preordinate, immutabili e di inesorabile fatalità. Quindi addirittura appesantisce molto, diciamo, il cotè giustizia rispetto al cotè libertà. Ma è Ugo Foscolo, tutti gli editori pensavano, ma la sua fonte è quella del preambolo del 93. Ma se ben ci pensate, quella difficile coniugazione ha avuto una lunghissima esistenza postuma, perché è entrata non soltanto in movimenti politici che ci sono così autodefiniti, ma è al fondamento del pensiero costituzionale novecentesco. quindi non ebbe vita, se non effimera, quella costituzione dell'anno primo, in cui per la prima volta la regola della libertà è la giustizia, ma è il nostro problema. Grazie. 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 Grazie.